Non mi sono preparato, ho continuato a suonare, a suonare, a suonare, sia sui progetti che sono appena usciti, ho lavorato sia sui progetti che sono appena usciti, l'album che è appena uscito, e sulla canzone stessa. Ho suonato con tutta l'orchestra, con la band, e è stato pazzesco, il fatto di sentirsi avvolti, la musica è una figata, è molto bella. Inviata, sì, sicuramente culturalmente, tutti quanti gli step tecnologici che abbiamo fatto vanno sicuramente a influire su quello che è la canzone, diciamo così. Dopodiché, diciamo che, a prendere, a cantare, io tipo, secondo me bisognerebbe fare proprio una lezione per rispondere a una domanda inquisiva. Una delle mie canzoni preferite, di Sanremo, mi piace molto, E poi, di Giorgia. Non so se l'avrei portata, non so, nel senso avrei sicuramente provato, diciamo. Lei fa da matti, anche lì, non si scherza mica, lì, lei fa da matti, nel senso, va al su come non ma, cioè, fa vibrare da matti. Per cui sarebbe stata sicuramente una delle scelte, cioè, sarebbe stata una delle, diciamo. Adesso ci sarà un tour, ad aprile, con quattro date, in Bologna, in Roma, in Milano, in Torino. Non vedo l'ora di prendere e suonare, perché mi sono, nell'ultimo periodo, mi sono mosso sempre chitarra e voce. Non vedo l'ora di suonare con la band a seguito.